Questa è la sala principale, la sala dell'evento del 6 ottobre. Qui abbiamo sul lato destro e sinistro due maxi schermi e altri maxi schermi che verranno settati ai lati per garantire una visione perfetta anche per le persone che siederanno a metà o in fondo la sala. Le prime file dell'All Inners Conference sono già piene, ci sono già persone che hanno prenotato il loro ticket, hanno preso il ticket VIP e si garantiranno il posto in prima fila. Ti posso assicurare che questo fa la differenza. Fa la differenza perché? Perché tu vuoi essere più vicino possibile al palco, tu vuoi essere la persona che riceve le informazioni in maniera più diretta. Andiamo sul palco un attimo. In questo palco si alterneranno alcuni dei migliori esperti nel mondo digitale al momento. Queste persone saliranno su questo palco e parleranno di strategie, pratiche, operative per aiutarti ad applicarle sin da subito ad ottenere risultati misurabili. Perché l'All Inners Conference, come ti ho appena anticipato, è un evento solo pratica. Quindi puoi aspettarti solo consigli pratici dai nostri esperti, da me, da Matteo Pittaluga e da tutte le persone che saranno su questo palco per aiutarti a cambiare il destino del tuo progetto. Voglio prendermi un minuto per spiegarti il perché questo evento si chiama All Inners Conference e del perché questo braccialetto è importantissimo per tutti i partecipanti. All Inners è ormai da anni il punto di riferimento di coloro che non mollano mai. È un brand, è un marchio che identifica le persone che hanno preso una decisione e non vogliono guardarsi indietro. Hanno deciso che quella è la loro strada e devono fare successo in ogni caso. In questo evento, come da tradizione, ci prendiamo un'ora intera per premiare tutti i partecipanti. Che tu abbia successo, che tu non abbia successo, che tu stia soffrendo o no, ti diamo questo braccialetto perché questo braccialetto rappresenta per te la decisione di non mollare nei momenti più difficili. Lavorando online, lavorando come imprenditore o magari sei un dipendente che vuole cambiare vita, è importante realmente prendere una decisione e All Inners è la cultura del non mollare mai. Lo stile di vita di tutti coloro che hanno deciso di prendere il piano B, strapparlo e concentrarsi solo sul piano A. Quindi una ragione davvero grande per partecipare a questo evento è far parte di questa grandissima famiglia che oggi conta migliaia di persone che hanno questo braccialetto al polso e nei momenti di difficoltà lo guardano e prendono una decisione. Quella di passare oltre al momento di difficoltà e andarsi a prendere il proprio successo. Questa è la sala dove sabato 5 ottobre faremo il Millionaire Mastermind Workshop, ovvero il mastermind pratico sul come lanciare una startup da un milione di euro. Questo evento privato speciale che precede l'All Inners Conference, infatti è il 5 ottobre e non il 6, sarà dedicato solo ai possessori del Ticket VIP. Cosa include il Ticket VIP? Il Ticket VIP include l'evento del sabato appunto in questa sala, quindi potrai portarti il tuo pc per lavorare e assieme a me Matteo Pittaluga e altri speaker a sorpresa andremo a vedere nella pratica come creare una startup fino a un milione di euro di fatturato che è la storia vera della mia azienda, della nostra azienda Marketing Genius. Quando siamo partiti nel 2017 in un solo anno siamo riusciti a creare un'azienda milionaria senza rischi imprenditoriali. Questo è l'argomento del Mastermind VIP, questo workshop pratico di sabato 5 ottobre. In questa zona avremo una cena di altissimo livello con portate ultra ultra selezionate per i partecipanti del giorno extra sabato 5 ottobre. Quindi che dire, ti aspetto a questa giornata extra dell'All Inners Conference dedicata purtroppo però solo a 50 persone. Durante l'All Inners Conference 2019 ci sarà un periodo dedicato all'All Inners Zone, ovvero un'ora intera di storie reali di persone come te, persone che hanno ottenuto risultati e queste persone sai dove andranno? Andranno su quel palco dov'ero poco fa e racconteranno come hanno fatto i primi risultati o come hanno raggiunto risultati incredibili. Se sei il possessore di un ticket premium potrai accedere alla cena della domenica sera. Dopo l'evento All Inners Conference infatti ci troveremo in questa location per cenare tutti assieme e celebrare un evento storico. Questa è la location della cena, la cena conclusiva dell'All Inners Conference. Come vedi sono organizzati tavoli giganteschi dove potrai celebrare assieme a tantissime persone. Questo è apparecchiato per 200 persone, ci aspettiamo 200 persone alla cena della domenica e questo luogo ti darà una certezza, la certezza che tu hai gli strumenti pratici da applicare sin da subito nel tuo progetto, nella tua idea per raggiungere un solo obiettivo, quello del tuo successo personale e professionale. Adesso è il momento di fare azione. Diventa parte dell'All Inners Conference assieme a altre centinaia di persone, persone normali che hanno deciso di diventare straordinarie con strategie digitali pratiche e prima di andarmene da questo video voglio lasciarti con il passato, cioè quello che è successo fino ad oggi in eventi del genere, eventi che portiamo avanti dal 2017, eventi che ti porteranno a vivere emozioni simili se non superiori a quello che è già successo per altre migliaia di persone. Andiamo a vedere! Vieni a prendere il tuo braccialetto! Grazie! 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 Grazie!